Ci siamo ritrovati oggi pomeriggio a Parma per parlare di donne e anche di casi purtroppo di violenza partendo da un caso che ha caratterizzato un po' l'estate della città di Parma per fare però riflessioni un po' più amiche, quindi quale deve essere l'impegno della politica, come, se lo si può fare in modo intelligente e condiviso, quindi quanto è importante in realtà parlare di questo tema, comunque ricordare queste storie anche per dare impulso alle politiche e per non dimenticare che è necessaria e fondamentale la continuità nell'aiuto e nel sostegno alle persone che soffrono, in questo caso alle donne e ai loro figli e quindi il senso di questo confronto era proprio questo, che cosa si può fare e cosa si deve fare e quindi mantenere sempre alta l'attenzione.